Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Demopoli, Istituto Demopolis, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Ad oggi, sabato 28 settembre 2024, troviamo in vetta Fratelli d'Italia con il 29%, il Partito Democratico al 24%, il Movimento 5 Stelle all'11,5%, Forza Italia al 9,4%, la Lega 8,6%, AVS 6,5%, Azione 2,5%, Italia Viva 2%, più Europa 1,5%, Affluenza 60%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.